Home TV, un posto al sole anticipazioni settimanali dal 21 al 25 novembre, Eugenio ci riprova scritto da Martina Monti il 16 novembre 2022 e le anticipazioni settimanali di un posto al sole, storica sopopera in onda su Rai 3, ci rivelano che Viola ed Eugenio si ritroveranno vicini e potrebbe riemergere un antico sentimento. Intanto Nico è sopraffatto da rabbia e dolore. Tornano le anticipazioni settimanali di un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 novembre 2022 accadrà che Nico sarà devastato dalla proposta di Manlio, poi il ragazzo verrà messo a dura prova il giorno della commemorazione di Susanna. Viola si riavvicina a Eugenio, il quale vuole salvare il loro matrimonio. Ma scopriamo insieme che cosa rivelano nel dettaglio le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 45 su Rai 3, leggi anche, un posto al sole, il riassunto delle puntate precedenti, ecco dove eravamo rimasti un posto al sole anticipazioni settimanali dal 21 al 25 novembre 2022 riassunto puntata lunedì 21 novembre Nico non sa se incontrare Maglio. Nicotera è molto più presente nella vita di Antonio e questo fa bene sia al bambino che a Viola. Bianca ha deciso, organizzerà una festa per Antonello. Cosa faranno Franco e Angela? Un posto al